Buonasera cari amici di Telemolese, ben ritrovati per l'ultima edizione del nostro telegiornale. Alla vigilia delle elezioni provinciali di Campobasso l'Arsap ha contrattualizzato una ventina di persone, tra le quali sindaci e consiglieri poi eletti alla provincia. Denunciarlo è Carlo Perrella, consigliere di opposizione al comune di Boiano, il servizio di apertura e di Anna Maria Di Matteo. Assunzione all'Arsap di una ventina di persone. Fin qui nulla di strano se non fosse che i contratti sono arrivati qualche giorno prima delle elezioni per la provincia di Campobasso e che tra i contrattualizzati ci sono amministratori locali, sindaci e alcuni consiglieri eletti poi alla provincia. La denuncia è del consigliere di opposizione al comune di Boiano, Carlo Perrella, che invita gli organi preposti a controllare. Dandomi con gli obbligo fare gli auguri al presidente Antonio Battista che ha avuto un successo non indifferente, sicuramente dovuto a un sistema elettorale alquanto anomalo che vede solamente gli amministratori votare e soprattutto dare dei punteggi per le città, Capoluogo, Campobasso e Termoli più alti rispetto a tutto il resto. Quindi era quasi come giocare facile. Ma giocare facile ancora di più perché risulta che qualche giorno prima delle elezioni provinciali siano stati contrattualizzati verso l'Arsap che è l'ente di gestione del PSR una serie di sindaci e di amministratori comunali e addirittura anche eletti consiglieri provinciali. Questo è un fatto credo gravissimo e credo che le autorità competenti debbano un attimino chiarire come mai solo allora e come mai ricontrattualizzati solo in quel momento. Quali sono i criteri che sono stati adottati e soprattutto se il bando prevedeva che si facessero dei quiz multipli che ha previsto poi chiaramente l'assunzione di queste persone. Da bando non risultava questo. Quindi chiarire, ma quello che mi risulta veramente strano, che quasi tutti gli assunti siano amministratori e sindaci. In barba tutti i nostri disoccupati e le centinaia di migliaia di persone e di ragazzi molisani che hanno laurea e che sono costretti a trovare lavoro fuori regione o addirittura all'estero. Io credo che sia una cosa gravissima, una cosa in cui chiedo alle autorità preposte di verificare se tutto risulta regolare. Cambiamo argomento. Nello scontro tra due auto ha perso la vita una donna originaria di Pizzone. L'incidente si è verificato a Pignataro Maggiore nel Casertano dove la donna, 66 anni, Rosa Santucci è morta dopo che l'auto su cui viaggiava si è scontrata frontalmente con un'altra auto con a bordo tre persone rimaste ferite. Lo scontro è avvenuto sulla statale Casilina che, come riferito dall'ANAS, è stata chiusa per consentire ai mezzi del 118 di soccorrere i feriti e alla polizia stradale di effettuare i rilievi. E un ragazzo di 14 anni, di petacciato, è stato investito ieri sera sul lungomare di San Salvo. Il giovane stava attraversando la strada quando è stato investito da una SEAT guidata da un residente. Il ragazzo è stato soccorso dai medici del 118 ed è stato subito trasportato all'ospedale di Pescara per un trauma cranico dove si trova tuttora ricoverato. Le sue condizioni, fortunatamente, non sono gravi. Partenza della trasformazione delle bietole con qualche imprevisto allo zuccherificio del Molise dove i macchinari sono stati spenti dopo poche ore. Diffuso un manifesto funebre sulla fabbrica. Sfogo amaro verso la politica da parte della RSU, della CGL. Antonio Di Lisio. Solo chiacchiere al vento. Ce ne parla Manuela Ione. Falsa partenza per lo zuccherificio del Molise dove questa mattina è iniziata la trasformazione delle barbabietole salvo poi essere improvvisamente bloccata. A quanto pare c'è stato un problema con le caldaie oltre a mancare addetti al primo soccorso necessario anche per una campagna di soli due giorni. E così la fabbrica è stata spenta appena poche ore dopo la sua accensione. Una corsa contro il tempo per farla ripartire perché le bietole sono state consegnate e rischiano di marcire. Il piazzale è pieno e sono stati riempiti anche quasi due silos pronti per la trasformazione. Gli operai richiamati al lavoro allo stesso tempo sono disorientati. Da una parte vivono il destino ormai segnato dello zuccherificio con lo spettro del licenziamento. Dall'altro assistono a spese ai loro occhi incomprensibili come l'acquisto di nuovi dispositivi per lavorare come guanti, tappi, tute anticalore per quella che sarà con molta probabilità l'ultima campagna o come l'acquisto di motoseghe e decespugliatori per pulire le aree verdi intorno alla fabbrica. Tra i lavoratori è stato diffuso un manifesto funebre con la foto delle bietole sul piazzale della fabbrica. 1969-2016. In seguito alle tante ferite ricevute dopo una lunga agonia è venuto a mancare lo zuccherificio del Molise. Segnale che ormai si sono perse le speranze. Lo sa bene Antonio Dilisio, RSU della CGL, e da sempre in prima linea sulla vertenza dello zuccherificio dai tempi dell'Ocm Zucchero, la riforma europea che ha tagliato le gambe agli stabilimenti italiani. Quanti consigli monotematici con i nostri politici? Sempre la stessa storia, stiamo lavorando per voi, scrive Dilisio in una nota. Non sono servite le manifestazioni, non sono servite le lettere a Matteo Renzi, al ministro Martina, all'europarlamentare Pittarella, ai nostri parlamentari molisani. Abbiamo chiesto di intervenire continua, di diversificare per rimanere in vita. Tutti in silenzio, solo tavoli sterili. Solo promesse su promesse, come quelle elettorali. Abbiamo più volte sentito dire non vi lasceremo soli. Ecco, oggi è la prova di tutte le chiacchiere spese al vento. Uno sfogo amaro, quello del sindacalista, che augura al Molise e ai suoi colleghi, molti in età avanzata, di riprendersi la propria dignità da soli, senza obblighi verso nessuno. È pronta un'istanza al Tribunale del riesame per due degli arrestati del blizze della Procura Antimafia di L'Aquila, la Isola Felice, inchiesta per la quale sono stati arrestati a Termoli il boss dell'Andrangheta, Felice Ferrazzo, il figlio e altre persone affiliate. Il penalista Giuseppe Miletti ha chiesto al Tribunale della Libertà la revoca delle misure a carico dei suoi assistiti. Vincenzo Macera, confinato ai domiciliari, e Costantino Petrucci, con obbligo di dimora entrambi. Di Campomarino, nei confronti del primo è scattata l'accusa di tentata estorsione e spaccio, mentre per il secondo l'associazione ha delinquere collegata al traffico di droga. In attesa della fissazione degli interrogatori da parte del Tribunale di L'Aquila, Miletti ha predisposto il ricorso al riesame, sostenendo che per questi fatti i due sono stati già giudicati. Parliamo di sicurezza degli edifici scolastici, perché il sindaco di Campobasso, Antonio Battista, è pronto a firmare l'ordinanza di chiusura della scuola di Via D'Amato. Gli alunni della primaria saranno trasferiti alla Dovidio di Via Roma e la materna della scuola dell'infanzia di Via Crispi. Intanto, ultimi ritocchi alla scuola di Via Sant'Antonio dei Lazzari, che il 12 settembre ospiterà gli alunni della Scarano. Ci dice tutto questo in un servizio ancora Anna Maria Di Matteo. E' attesa per le prossime ore l'ordinanza del sindaco di Campobasso Battista, che dispone la chiusura della scuola di Via D'Amato e il trasferimento degli alunni della primaria nell'Enrico Dovidio di Via Roma e di quelli dell'infanzia nella scuola materna di Via Crispi. In questo modo è scongiurata l'ipotesi circolata in un primo momento dei turni pomeridiani che gli alunni avrebbero dovuto fare all'interno del nuovo edificio di Sant'Antonio dei Lazzari nella Colozza. Una soluzione temporanea in attesa che vengano completati i lavori alla scuola Dovidio in Via Gorizia. Tuttavia tra i genitori restano le perplessità sulla scelta del comune, tant'è che incontreranno l'assessore Pietro Maio per fare il punto. Ma appare evidente che soluzioni alternative a quella prospettata dall'amministrazione comune al momento non ce ne siano, soprattutto in considerazione del fatto che mancano pochi giorni alla ripresa delle attività didattiche. Intanto vanno avanti alla cremente i lavori alla scuola di Via Sant'Antonio dei Lazzari che il 12 settembre ospiterà gli alunni della primaria Nicola Scarano. Tutto intorno all'edificio un viavai di mezzi, ruspe in azione per rimuovere il terreno sul quale sarà realizzato un giardinetto, mezzi al lavoro per asfaltare il piazzale e operai sul tetto per gli ultimi interventi. E a pochi metri dal nuovo edificio alla scuola Media Colozza il personale scolastico sta completando il trasferimento dell'archivio e del materiale didattico che servirà agli alunni delle quinte classi della primaria di Via Crispi che saranno ospitati al primo piano dell'edificio. Insomma, tutto procede come previsto. L'amministrazione ha trovato una sistemazione ai bambini della Scarano che lo scorso anno furono costrette ai turni pomeridiani al trasferimento fino a giugno alla Dovidio in Via Roma tra mille disagi e tante difficoltà. Il nuovo anno scolastico sembra aprirsi per loro e per le famiglie all'insegna della tranquillità. Intanto a Campobasso i residenti di Fontana Vecchia hanno segnalato la situazione di abbandono nella quale versa il quartiere. Nei giorni scorsi il Comune ha effettuato la disinfestazione ma durante tutta l'estate, dicono i residenti, Palazzo San Giorgio non si è preoccupato di curare le aiuole che circondano le case popolari dell'OIACP diventate un rifugio per diversi animali. I residenti hanno più volte contattato il Comune ed anche la Regione per segnalare la necessità di intervenire con un giardiniere per ripulire quantomeno la zona, dato che l'appello non è stato accolto. Alcuni abitanti si sono adoperati per curare il giardino condominiale. Alla Prefettura di Sernia sono stati firmati protocolli d'intesa per coinvolgere i migranti presenti in diversi comuni della provincia in attività di volontariato. Ce ne parla Sergio Di Vincenzo. L'obiettivo dei protocolli d'intesa promossi dalla Prefettura di Sernia è chiaro andare oltre il concetto di assistenza facendo in modo che i migranti si rendano partecipi delle problematiche dei territori che li ospitano, svolgendo lavori di pubblica utilità. All'appello hanno risposto positivamente la Regione che sosterrà le spese per la copertura dei costi assicurativi, la provincia e i comuni di Sernia, Agnone, Cantalupo nel Sannio, Frosolone, Pesche, Rocchetta, Volturno e Sant'Agapito. Questa attività va vista come una prima tappa di un percorso di integrazione che diverrà di mano in mano più evoluta andando a assomigliare a quelle forme di integrazione previste dai progetti SPRAR in quanto la forma ordinaria di accoglienza da parte dello Stato italiano dovrà divenire sempre più quella che è prevista dal modello SPRAR e sempre meno quella dei centri di accoglienza temporanei in quanto questi sono visti dal nostro ordinamento come una forma straordinaria di accoglienza solo per i casi in cui non vi sia sufficiente disponibilità da parte delle strutture SPRAR. Le attività di volontariato proposte hanno già riscosso interesse da parte dei migranti ma questo è solo un primo passo per il prefetto Guida infatti queste persone possono rappresentare una grande risorsa anche per contrastare il fenomeno dello spopolamento e perché no, per dare un futuro a quelle attività artigianali che rischiano di scomparire. Anche la nostra società isernina deve vedere con favore questo percorso di integrazione da parte degli immigrati in quanto è proprio in province come questa che sono da anni soggette al fenomeno dello spopolamento e dell'invecchiamento della popolazione che percorsi integrativi di questo genere possono rivelarsi in prospettiva particolarmente preziosi visto che ci sono delle carenze di mano d'opera in settori importanti della economia isernina come ad esempio in agricoltura e nell'artigianato. Sotto questo profilo stiamo emettendo a punto ulteriori protocolli di intesa Negli ultimi tre anni anche in Molise sono aumentate le denunce per presunti casi di malasanità e quanto emerge da un provvedimento del direttore generale dell'azienda sanitaria regionale Gennaro Sosto nel quale viene riformulata la composizione del comitato di valutazione sinistri aziendale per migliorare la gestione delle vertenze assicurative intanto si apprende che l'ufficio affari legali è alle prese con centinaia di cause di lavoro un aumento esponenziale dovuto alle persistenti difficoltà finanziarie dell'ASREM. Parliamo ora di referendum perché su iniziativa del comitato per il Sì a Isernia c'è stato un incontro proprio per parlare del referendum costituzionale in programma in autunno è intervenuto uno degli ispiratori della riforma il professor Carlo Fusaro e c'era per noi Sergio Di Vincenzo. I promotori del Sì al referendum costituzionale ne sono convinti la riforma permette di ammodernare e rendere più veloce ed efficiente la macchina statale oltre che pronta ad affrontare le sfide future e cui sono chiamate le istituzioni italiane a partire dal ruolo da giocare in seno all'Unione Europea al tempo stesso si dà ai cittadini la possibilità di scegliere senza delegare ad altri il governo che dovrà guidarli durante la legislatura mentre i costi della politica sono destinati ad essere ridotti sensibilmente. Delle novità e degli obiettivi che si intendono raggiungere attraverso la riforma della legge fondamentale dello Stato se ne è discusso durante un incontro organizzato nei locali di Spazio 180 dal Comitato Isernia per il Sì al dibattito ha partecipato Carlo Fusaro docente universitario ritenuto uno dei massimi esperti della materia le sue riflessioni e proposte sono raccolte nel libro Aggiornare la Costituzione storia e ragioni di una riforma curato insieme a Guido Crains Le ragioni per dire sì alla riforma costituzionale sono molte ma soprattutto per rendere le nostre istituzioni politiche meglio in grado di affrontare le sfide che abbiamo davanti a perquedire dall'Unione Europea avremo un bicameralismo più efficiente il rapporto di fiducia governo-parlamento con la sola camera un senato che rappresenterà le istituzioni territoriali avremo un rapporto fra Stato e regioni legislativo finalmente sciolto nelle sue complessità che eviterà i conflitti che ci sono stati a Iosa e in generale potremmo rendere i cittadini direttamente responsabili della scelta di governo per una legislatura questo è il senso di un referendum che può darci queste innovazioni e insieme anche una significativa riduzione dei costi della politica Dopodomani a Castello Monforte andrà in scena lo spettacolo teatrale il Vaillon di tutti l'incasso della serata sarà devoluto interamente alla ricostruzione del teatro di Amatrice e ce ne parla Patrizia Testa Anche il mondo del teatro si mobilita per aiutare le popolazioni del centro Italia colpite dal terremoto lo scorso 24 agosto tante persone che quella notte in pochi secondi hanno perso tutto la propria casa, il lavoro ma soprattutto parenti e amici che non ce l'hanno fatta a sfuggire alla furia della terra così dopodomani a Campobasso ci sarà una serata all'insegna della solidarietà nel suggestivo scenario del Castello Monforte andrà in scena il Vaillon di tutti da Longarone a San Giuliano riflessi di speranza una rappresentazione teatrale che ricostruisce in maniera approfondita la storia della diga del Vaillon dal primo progetto alla notte del disastro era il 9 ottobre 1963 quando un intero paese, Longarone fu spazzato via dal fango una frana, due chilometri lunga e profonda a 200 metri si staccò dal monte Toc finendo nel bacino artificiale del Vaillon provocando un'esondazione che non lasciò scampo a quasi 2000 persone tante le responsabilità umane chiamate in causa durante tre avvincenti ore di spettacolo l'appuntamento è alle 20 e 30 l'incasso, ad offerta libera all'ingresso sarà destinato alla ricostruzione del teatro di Amatrice ospite della serata il giornalista Pino Ciociola corrispondente per l'avvenire nelle zone terremotate in caso di maltempo lo spettacolo si sposterà al teatro Savoia il Vaillon di tutti è una produzione dell'associazione culturale Overture autore, regista e protagonista Andrea Ortis una cooperativa per promuovere e vendere sul mercato italiano e internazionale i prodotti tipici dell'agricoltura molisana sta nascendo in provincia di Sernia ma vuole coinvolgere l'intero territorio regionale sentiamo Enzo Di Gaetano il progetto è ambizioso e vuole portare il Molise a livello di regioni come l'Emilia Romagna o il Trentino dove le cooperative del parmigiano reggiano o della mela melinda hanno avuto un successo sociale ed economico di tutto rispetto al Molise non manca nulla per provarci i prodotti tipici di qualità ci sono dal pomodoro di Montagano alle lenticchie di Conca Casale per finire con i fagioli bianchi di Acquaviva di Sernia o il tartufo nero dell'Alto Molise insomma la qualità non manca quello che manca è la volontà di mettersi insieme fare squadra e promuovere il territorio a livello di marchio DOP regionale ci sta provando Giovanni Venuto imprenditore con numerose esperienze nel settore che ha convocato per sabato prossimo pomeriggio a Sernia una prima assemblea di produttori interessati all'ambizioso progetto si tratta di costituire una cooperativa e quindi una centrale di acquisto per poter entrare nei mercati emergenti e nei mercati che richiedono questi prodotti da tempo io oramai vivo da tanti anni qui in Molise e continuo a dire agli agricoltori ai contadini non solo della provincia di Sernia visto che io vivo a Venafra ma anche dell'intero Molise che mettersi insieme sarebbe la cosa più saggia perché ci sono almeno 5-6 prodotti che sono di alta qualità sono IGP DOP e per chi non è del settore i DOP e gli IGP sono prodotti ricercati anzi ricercatissimi quindi una cooperativa divide i rischi e aumenta la competitività sul mercato pensate che ogni piccolo agricoltore ogni contadino potrà portare questo prodotto che lui sceglierà tra i 5-6 che io indicherò li porterà a questa centrale d'acquisto saremo quindi in condizione di avere le certificazioni e quindi avere un packaging giusto per il mercato estero questo significherà avere un ritorno economico al di sopra di ogni aspettativa e quindi la ricchezza si estende e si espande su tutti quelli che fanno parte di questa cooperativa quindi sabato prossimo alle ore 17.15 nella sala gialla della provincia di Sernia vi aspetto Quali sono i prodotti che rispondono a questi requisiti? Inizierei con la cipolla di Sernia che ha una storia di qualche secolo qui a Sernia esiste una signora di 92 anni pronta a fare anche l'insegnante per coloro i quali non dovessero avere cognizioni di questo prodotto poi abbiamo le lenticchie di conca casale abbiamo i pomodori di montagano abbiamo i fagioli di acqua viva abbiamo altri prodotti per esempio i tartufi del Matese ci sono dei prodotti in questa regione che non hanno niente da invidiare e addirittura ci sono e questa è la cosa che più mi duole vedere i tartufi per esempio del Molise che vengono acquistati da persone da altre regioni li spacciano per produzione loro guadagnano il triplo di quello che prende un cavatore invece i cavatori del Molise potrebbero portare questi tartufi a questa centrale d'acquisto quindi la cooperativa divide i rischi ve lo ripeto fino alla noia e migliora la qualità di quello che noi produrremo c'è stato un riconoscimento speciale per la famiglia Colantuono di Frosolone per quanto concerne l'antica pratica della transumanza il servizio è di Valeria Farina Un altro riconoscimento è arrivato in casa Colantuono ad Acquevive di Frosolone per quanto riguarda la transumanza durante la terza edizione di una delle più importanti manifestazioni legate ai prodotti tipici locali che si è svolta a basto la settimana scorsa la famiglia è stata insegnita del premio prodotto identitario delle genti italiche per il 2016 un premio questo che si aggiunge ai numerosi riconoscimenti precedenti che avvaloreranno il fascicolo destinato alla commissione UNESCO per la definizione della transumanza come bene materiale la famiglia di Acquevive di Frosolone che già da tempo è custodi di questo importante rituale risulta essere l'unica nel meridione italiano ad essere promotrice di questa pratica che affonda le sue radici in epoca sanita e romana quest'ultimo premio non è legato tanto all'alta qualità dei prodotti caseari il formaggio e i tipici caciocavalli ma quanto alla cultura della transumanza che deligna l'identità culturale delle genti taliche specchio di vita e lavoro legato alla riscoperta alla tutela e alla valorizzazione del territorio e delle biodiversità dove i trattori sono i protagonisti e ora parliamo della cura del proprio corpo perché dopo l'estate è importante mantenersi in forma tra sport e relax nella zona industriale di Miranda è stato inaugurato il MySuite SPA nuovo centro benessere e sportivo ce ne parla Annalisa Ciarlante MySuite SPA questo è il nome idealizzato per la nuova struttura nata proprio nella zona industriale di Miranda vicino Isernia Sicuramente mi sono voluto mettere in gioco visto che ecco il periodo non è dei migliori però ho sfidato insomma me stesso in questo progetto che avevo in mente già da diversi anni e ho detto vabbè è il momento di metterci in gioco e quindi ho preso questa iniziativa e sono arrivato ecco a realizzare questo mio sogno tra l'altro che è una cosa che desideravo già da diversi anni e fortunatamente sono riuscito a realizzarlo insomma Una struttura che consente di non solo curarsi fisicamente diciamo ha pensato al benessere psicofisico in toto come è strutturato questo centro questa MySuite Spa allora praticamente ho pensato ecco a un benessere si può dire a 360 gradi perché ho voluto realizzare questa spa appunto con questo percorso dove abbiamo bagno turco sauna docce emozionali piscina idromassaggio stanza del sale stanza relax e ho voluto abbinare ecco appunto a questa spa un centro estetico massaggi e un hairstylist e un centro solarium quindi proprio per offrire un benessere a 360 gradi per la persona e appunto unito con la palestra ma non solo questo Mirko perché so che hai pensato proprio a tutto hai pensato anche ai più piccoli e quindi anche alla tranquillità dei loro genitori perché che cosa c'è anche nella suite spa sì praticamente ho pensato ecco di inserire all'interno di questo di questo centro anche un'area ricreativa per i più piccoli dove ecco i genitori appunto se vogliono vogliono fare un percorso spa oppure stare dalla parrucchiera oppure fare dei massaggi possono affidare i propri figli a personale dove si occupa appunto di tenerli in un certo modo e ecco far fare far fare loro dei lavoretti tenerli impegnati nell'ora in cui i genitori ecco si concedono questo momento di relax e con la speranza di mantenerci tutti in forma dopo l'estate termina anche l'ultima edizione del telegiornale di Telemolise grazie perché scegliete la nostra informazione buonanotte grazie Grazie a tutti.